Questa prima pettinatura sarà libera sulla base della nuca, mentre i lati aderiranno alla parte superiore della testa. Quindi si tratta di qualcosa di piuttosto semplice. Utilizziamo un piccolo elastico. Questo lavoro è fatto principalmente con le dita, quindi separiamo con le dita e fissiamo semplicemente con le mollette. Per la parte superiore è essenziale cotonare un pochino per creare volume. Per cotonare i capelli il gesto è in tre tempi. Il primo riguarda le lunghezze e la base. Cotoniamo e spingiamo la cotonatura alla base, quindi sarà necessaria una nuova suddivisione dei volumi. Il tocco finale sarà conferito dalle mollette e dall'elastico. Pochi prodotti per questa mise. I capelli saranno liberi e molto morbidi.